I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, a conclusione di una mirata attività di controllo, hanno deferito in stato di libertà una pregiudicata del 1979. La stessa percepiva indebitamente gli emolumenti pensionistici di una donna classe 1935 già convivente con lei e deceduta nello scorso mese di gennaio. Gli accertamenti hanno consentito di verificare l'incasso di circa 3.000 euro occorso negli ultimi mesi e di evidenziare responsabilità penali riguardanti la mancata comunicazione della variazione dei requisiti relativi al reddito di cittadinanza. La donna percepiva illecitamente anche quest'ultimo, nonostante fosse già sottoposta alla detenzione domiciliare per scontare la pena di una condanna relativa a una rapina del 2013.